D'accordo, ma soltanto perché devo dirlo a qualcuno? Sono praticamente saltato addosso a Lois. Ah, e così alla fine l'hai fatto, eh? Beh, senti, Brian, come tuo amico, ecco, io devo dirti che quella femmina è ground zero, bello, cioè ho completamente devastato quella donna mentre uscivo e giusto a spregio ho inciso nel tunnel Brooks è stato qui. L'hai vista la scritta? L'hai letto Brooks è stato qui? Non abbiamo fatto niente. Considerando che c'era passato Chris, prima di me sono uscito praticamente camminando, non ho dovuto neppure abbassarmi, c'era pure lo spazio per roteare un bastone da passeggio uscendo. Stai esagerando? Sì, ma appena appena un po', è proprio questa la cosa strana.